Ragazzi, si ritorna a commentare le notizie del giorno. Per un po' sono stato assente, lo sapete, ho preferito guardare i problemi di Roma piuttosto che sentire il dibattito che veniva da sinistra, che personalmente già vi ho detto, mi faceva quasi vomitare. Però continua sto senso di nausea, perché io più vedo quello che accade in Italia e più sta nausea non me se leva, sta voglia di vomità. Non so se avete visto l'omicidio di Sharon, non è stato fatto da Sangare, quel ragazzo italiano di seconda generazione, non integrato, che andava in giro dicendo voglia di uccidere. È la domanda che ci poniamo un po' tutti. Ma dove stanno tutte le femministe ora? Dove sono quelle incredibili palatine delle donne? Quelle del bruciamo tutto? Quelle che nessuna di meno... Dove sono adesso? Sono in vacanza oppure tacciono perché chi ha compiuto il fatto non è un uomo bianco e bisogna sempre dare la colpa a uomini bianchi qua in Italia. Tartiamo dal presupposto che per me siamo tutti uguali, invece sono loro che vedono la differenza tra uomo bianco e uomini neri. Detto questo, io vedo che c'è sempre questo silenzio da parte della sinistra per fare una propaganda proprio contro gli uomini bianchi, perché le crudeltà secondo me non hanno colore e adesso dovrebbero parlare come quando parlano sul caso di Giulia Cecchettin e invece adesso stanno tutti zitti. La domanda dove sono tutte quelle che è colpa del patriarcato? Dove sono tutte quelle che cantavano i maschi? Sono da rieducare perché sono figli sani del patriarcato? Io me lo domando adesso. E se lo domandava stamattina pure libero con un bellissimo articolo? Stampato in prima pagina, Sharon uccisa femministe in vacanza. Niente patriarcato, sparito il femminicidio. Quando l'assassino non è l'uomo bianco, a sinistra non è un caso politico. E cala il silenzio. Andiamo a leggere l'articolo di Dell'Orco a pagina 4. Mi sembra molto figo. Se l'uomo bianco non c'entra, le femministe restano in vacanza. Quanta differenza con i casi Tramontano e Cecchettin. È vero, tantissima differenza. Stanno tutti zitti. Per il diritto di Sharon non si parla di patriarcato. E sparisce il femminicidio. A sinistra non c'è caso politico. Perciò cala il silenzio. Ma ci rendiamo conto che schifo, ragazzi. Ma andiamo a leggere l'articolo. A me sembra molto molto interessante. E promette molto bene. Dicasi femmonologia la pregiatissima tote di analizzare il modo in cui si manifesta un fenomeno. Un fenomeno di piccola postilla reale. Oggi viviamo invece al tempo in cui prima un fenomeno si crea e poi si prende in esame. Il fanatismo femminista, ad esempio, si basa su due capisaldi. Il patriarcato, come genesi di qualsiasi oppressione contro le donne. E il femminicidio, come ultima affermazione del primato del maschio. Una visione totalmente distorta, secondo me, che tende a distruggere i rapporti tra uomini e donne. Creare la reciproca paura dell'uno contro l'altro. E premetto che per me le donne non si toccano nemmeno con un fiore. E precisiamolo sempre, perché questi le mettono poi in bocca parole che non sono le tue. Queste colonne portanti, continua dell'orco, si scontrano però fra loro immediatamente. Poiché il primo assunto è assoluto, il secondo è relativo. Basti pensare alla macabra conta dei femminicidi annuali che i movimenti rosa talebano rimproverano al Ministero dell'Interno di non tener conto. Loro che invece la lista la stilano basano il calcolo estrapolando dal totale degli omicidi prima i casi di cui la vittima è donna e poi stornando da questi gli ultimi tutti gli scenari privi di contesto relazionale tra oppresso e oppressore. Solo ciò che resta, una volta caduti tutti i petali della Margherita, merita di rientrare nella categoria del femminicidio. Ecco, siccome il caso di Sharon Verseni non possiede tutti i crismi e non torna ideologicamente utile, è lecito spazzarlo come polvere sotto al tappeto. La disparità di trattamento con due tra i più efferrati assassini dello scorso anno, quello di Giulia Cecchettin e di Giulia Tramontano, è impietosa. Sgradevole. All'epoca, per giorni, tutti i media, i sociologi, i politici, anzi le politiche, rilasciarono il teorema della responsabilità collettiva. Vi ricordate, è tutta colpa degli uomini, colpa pure mia, colpa pure tua, che stai qua e ascolti, invece di andare a bruciare tutto, come dicono loro. I boia, Filippo Duretta e Alessandro Impagnatiello non erano dei disagiati criminali, bensì, ecco la frase che dicevo prima, l'espressione di un male congenito insito in ogni maschio. E loro infatti cantano tutti maschi, sono figli sani del patriarcato, bianco ed eterosessuale, le ordo femministe di, non una di meno, riempiono le piazze di mezza Italia, decine di migliaia di ragazze condivisero i versi di Cristina Torre, Casares, ripresi anche dalla sorella della povera Giulia, Elena Cecchettin, se domani sono io, mamma, se non torno domani distruggi tutto. Do stanno queste, regà? Ma do cazzo so finite? Questo me domando io. Contestualmente venne pretesa una pubblica ammenda da parte di ogni padre, marito, fidanzato, uomo d'Italia. Per cosa? Per il solo fatto di avere un cromosoma Ypsilon. Più di qualcuno a sinistra accettò e di buon grado persino che, nel suo senso di colpa, hanno fondato un'intera religione laica, il vocheismo. Ragazzi, è diventato un peccato pure che ci piaccia la figa. Mettetevelo in testa, è un peccato. Dispiacerà pure alle donne, credo, e spero. Ma questo è il vocheismo. Ora, chissà se all'epoca rispose all'appello pure Mus Sangaré, l'italiano di seconda generazione, che il cromosoma Ypsilon ce l'ha e come. Ed è misoggino, sanguinario, che la sua furia ha scelto di sfogarla, non su una persona a caso, ma su una donna a caso. Bravo, su una donna a caso. Nessuno la dice sta cosa. Dice Roberta Bruzzone, nota criminologa, Sangaré aveva già manifestato intenzioni aggressive nei confronti di due ragazzi minorenni per sua stessa ammissione, ma poi aveva desistito probabilmente perché si era reso conto che sarebbe stato complicato avere la meglio su entrambi. Anche pensate che vigliacco pure. Oltretutto che, mamma mia, ancora prima hanno rivelato gli inquirenti, aveva puntato un soggetto maschio senza però mostrarsi realmente aggressivo nei suoi confronti. In casa, invece, la cresta l'aveva mostrata e come sia con la madre che con la sorella. Che vigliacco. Il delitto Verseni, quindi, è un femminicidio per definizione se ne esistesse una chiara e non ideologica. Ma allora, no, una domanda che ci poniamo tutti. Perché per Sharon i versi slogan di Torre Casares non li rilancia nessuno? Perché non una di meno fa finta che non sia stata uccisa una donna di più? Tutti zitti, ragazzi, è questo che mi fa venire da vomitamme nel dibattito della sinistra. Capite perché c'ho la nausea io? Perché i media confinano l'assassinio a pagina 15? Perché Laura Boldrini e company, che in questi giorni sono intente ad occuparsi delle donne oppresse, ma in Afghanistan tacciono? Perché i sociologi, piuttosto che inventarsi una fenomenologia, non analizzano una che c'è già? Ecco, un suggerimento. Negli Stati Uniti viene da tempo studiato il fenomeno degli incelers, i cosiddetti celibi involontari. Oltre alle branche delle scienze umane, hanno iniziato ad occuparsene anche le autorità, come i National Theater Assistance Center, quelli, in sostanza, che si occupano di minacce per la sicurezza nazionale. Beh, vedi, la stanno avanti, regà, noi dicono americani, perché poi questi sono pure comunisti, tutti questi che fanno questi discorsi sono tutti comunisti, non una di meno, e quindi il modello americano non deve essere guardato. Bisogna mistificare come fanno loro. Questi celebbi involontari sono uomini, certi uomini, non tutti gli uomini, incapaci di rapportarsi, di rapporti sociali con le donne, spesso con ideologie misogine e sociopatiche varie. Si aggiunga nel caso di migranti, certi migranti, non tutti migranti, certi, io non generalizzo mai, ragazzi lo sapete, me conoscete, con una chiara incapacità di integrazione. Costoro, che col passare del tempo radicalizzano i loro impulsi di nascosto, né più né meno rispetto a un integralista islamico, finiscono per sfogare i loro beceri istinti su qualche malcapitata. Sono me le marce come Turetta e Impagnatiello, ma pure come Moussa Sangaré, Adam Kabobo, Innocente Osegale, Momod Kamaraa, Momod Garaa, Brian Minche, eccetera. Tutti in class, cioè uomini, vabbè, quelli che abbiamo detto prima, che non saranno certo resi più umani da un passaporto e con un'altra cosa in comune, le loro vittime, che devono essere tutte piante allo stesso modo. e invece qua ragazzi in Italia vediamo che le vittime non sono piante tutte allo stesso modo, non vedo le manifestazioni in giro per l'Italia, vedo un gran silenzio assordante della sinistra, che come vi ripeto, mi fa venire volta a stomaco a me. Forse era meglio non muore, dicevo, quest'articolo, però ormai ho fatto, quindi mi sono rovinato la giornata per compensare a tutto questo. Ma vado a farmi un giro per Roma e vi faccio vedere come sta ridotta la capitale.